C'era un programma che in pratica era il migliore e più grande del nonno prima So, this is a new program, this is the program... This is B-A and B-A Be getting better, dear guy B-A and B-A Il del 30 al 4 B-A and B-A 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 Come ne andiamo? is braaaah buaaah guarda che andiamo 3 3 3 3 3 3 un sciro biondo scala di stronzi ahahahahahahah ultimo da la putta scala di stronzi scala di stronzi putta più intensamente vai ah adesso magari puoi perdare